Andiamo a chiamare sempre per selezioni in-map la categoria degli 84 biogrammi. All'anno su per l'All Black Tribe MMA da Bruzzo entra Gabriele Bartoni. E allora il suo sfidante all'anno rosso del gruppo studio di Roma entra Francesco Lutini. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Vai! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.